E' semplice, mancano quasi 1.100 euro, dove sono? Comprare gratta e vinci, non è colpa mia, non mi piace neanche, li ho provati tutti ormai ed è per questo che mi sento sempre più sporco, anche dentro. Passo un pomeriggio intero sulle panchine del parco, come un barbone, hai un problema Cabrini, una vocina dentro la mia testa che continua a ripetermi questa frase, hai un problema Cabrini, rifletto che ho appena venduto l'anello di Stefania. Grazie a tutti